questo video è realizzato in collaborazione con la pagina facebook serie tv and soap di cui trovate il link in descrizione endless love cara sedda anticipazioni di lunedì 29 e martedì 30 aprile 2024 nyan entrando nella sua stanza nota una busta tra la posta dove vi trova dentro la fotografia della casa inviata poco prima da kemal ma con una nota sul retro il segreto di emir un morto vivente spaventata chiama immediatamente kemal ma non riceve risposta gli lascia un messaggio in segreteria implorandolo di non investigare su quella villa e lo prega di richiamarla emir raggiunge galip a casa di sua madre e gli chiede di restituirgli le sue pendrive ma galip rifiuta affermando che desidera scoprire chi lo sta minacciando da lontano kemal nel buio osserva quella casa e vede emir e suo padre chiama nyan la quale gli chiede di non avvicinarsi a quella villa kemal le rivela che lì dentro c'è la madre di emir e che questo non è probabilmente l'unico segreto che suo marito le nasconde poiché lei sapeva che la madre di emir era morta emir accusa il padre di aver ridotto sua madre in stato vegetativo ma quest'ultimo nega l'accusa sostenendo che la donna ha agito da sola fa notare al figlio che nonostante si creda potente alla fine è stata sufficiente una pendrive per metterlo in ginocchio gli chiede poi di seguirlo in un'altra stanza perché altre questioni importanti da discutere con lui intanto nyan e kemal sono ancora al telefono lei desidera l'indirizzo di quella casa per raggiungerlo ma lui glielo vieta le promette di scoprire ciò che emir stanno scondendo e di liberarla dalle catene che in qualche modo la legano a lui aggiunge che riuscirà a impossessarsi di quelle chiavette usb poiché è chiaro che contengono le risposte che sta cercando nyan tuttavia lo prega di non farlo temendo che nelle pendrive ci possa essere qualcosa che distruggerà la vita di tutti loro ma kemal conclude dicendo che salverà la vita di entrambi nel frattempo galip dice a emir che troverà chi lo sta minacciando ma emir risponde che non lo troverà mai e aggiunge che questa persona ha minacciato che se gli succedesse qualcosa andrà tutto nelle mani del procuratore galip lo accusa di usare quelle pendrive per minacciare la famiglia di nyan e afferma che le terrà finché non scoprirà chi c'è dietro a tutto questo precisando che anche se emir non lo capisce lo sta solo proteggendo nyan tenta di richiamare kemal ma senza successo quindi va dal padre spaventata e gli racconta che kemal sta indagando sul loro passato ha scoperto che galip ha delle pendrive che nascondono delle immagini che potrebbero incastrare osan e che ha trovato la casa dove vive la madre di emir emir intanto è nella camera di sua madre le bacia la fronte e le dice che 25 anni dopo ciò che ha fatto a lei suo padre sta facendo la stessa cosa con lui lasciandolo solo si dirige in auto dove ripensa alla notte di tanto tempo prima quando sua madre si lanciò dal terrazzo di una villa e lui bambino gridava mamma onder ancora con nyan sostiene che kemal probabilmente ha malinterpretato le cose perché la madre di emir è morta molti anni prima ma è convinto anche che kemal abbia scoperto il posto segreto di padre e figlio nyan risponde che da quando kemal è tornato tutto è cambiato e che emir diventerà ancora più pericoloso sottolinea che qualcuno vuole rivelare qualcosa riguardo a quella notte e osserva che kemal non si fermerà nella sua ricerca della verità sulle loro vite si chiede perché emir nasconda le pendrive onder le spiega che le usa per ricattarli emir li ha minacciati di consegnare osana alla polizia se non avessero raccontato tutto quello che sapevano su di lei e kemal inoltre ha fatto trattenere osana in commissariato per punirli anche se emir viene minacciato con quelle immagini continuerà a usarle per tenerli sotto controllo tuttavia se le pendrive ora sono nelle mani di galip forse emir non avrà più questo potere onder assicura la figlia che kemal non riuscirà mai a sottrarre le pendrive a galip perché lui le proteggerà a costo della vita successivamente galip è nella sua auto e kemal lo sta seguendo di nascosto giunge a casa sua mentre kemal si dirige nel quartiere più malfamato della città con un obiettivo ben preciso in mente non appena incontra un gruppo di delinquenti della zona che intendono dargli fastidio blocca uno di loro e gli chiede di riportarlo dall'uomo migliore del posto a casa dei genitori di kemal yussein e feime parlano del matrimonio di zeynep e salì felici per la loro unione e feime sta preparando la dote per sua figlia quando arriva zeynep smorza tutti gli entusiasmi dicendo che non intende sposarsi perché non ama salì lasciando i suoi genitori visibilmente sconvolti quando emir torna a casa niane entra nella sua auto e gli chiede di guidare nel mentre kemal viene portato in un'altra zona del quartiere dove ci sono altri uomini di dubbia provenienza che stanno giocando d'azzardo il loro capo si presenta a kemal col nome di zeyr kemal dice che gli hanno rubato la sua vita e che non desidera altro che riprendersela chiede così il suo aiuto per un lavoretto e una volta sentito di cosa si tratta zeyr afferma che è il più pericoloso di tutti i lavori che ha fatto poi entrano nel dettaglio e si capisce che kemal ha intenzione di recuperare le pendrive di emir ora nelle mani di galip e per farlo ha bisogno di qualcuno che entri a casa sua ormai lontani da casa nian chiede a emir di fermare l'auto e senza mezzi termini gli chiede chi lo stia minacciando emir in difficoltà ammette di non saperlo esattamente ma che da cinque anni paga regolarmente del denaro per evitare che questa persona parli tutto per proteggere la loro famiglia nian chiede perché continui a minacciare i suoi genitori con quelle immagini compromettenti emir non risponde direttamente ma lascia intendere che sia vero nian lo incalza minacciandolo di distruggerlo se non lascerà vivere in pace la sua famiglia gli dice chiaramente che sono tutti stanchi di lui e gli chiede di mostrarle quelle immagini emir cerca di evitare il discorso dicendo che non è necessario rivivere quei momenti dolorosi ma nian insiste e ordina a dimostrargliele subito emir mente dicendo di aver distrutto tutti i video e che la persona che lo minaccia continua a inviarne di nuovi tuttavia nian non gli crede e gli dice che da quel momento in poi vedrà ogni video che gli arriverà perché anche lei è coinvolta in questa situazione feime telefona a kemal e lo informa che zeynep ha qualcosa da dire a tutti loro us sei nota che taric ha un telefono nuovo di ultima generazione e gli chiede come lo ha comprato taric spiega di aver preso un prestito e che sta usando i soldi in modo onesto ma suo padre sottolinea che un prestito comporta sempre un debito ed è molto preoccupato per lui zeynep nella sua stanza osserva le foto di emir quando la chiama osan zeynep risponde e gli dice di smetterla di importunarla osan le chiede il motivo del suo comportamento ma lei ribatte che non è interessata né a lui né a salì e che desidera solo essere lasciata in pace intanto nian è tornata a casa e ha sentito suo fratello discutere al telefono gli chiede di lasciare in pace zeynep perché è già fidanzata ma lui le rivela che zeynep non ama salì e che nella sua testa c'è un'altra persona a casa zeynep è circondata dalla sua famiglia e che mal chiede ai genitori di lasciarli soli in modo che la sorella possa sentirsi libera di parlare rimasta sola con i due fratelli zeynep spiega che non ama salì il quale ha fatto tutto da solo che male fa notare che spezzare il cuore di un uomo innamorato è una colpa ma tarik interviene dicendo che la loro sorella non può sposare salì solo per pietà che mal aggiunge che doveva dirlo prima che doveva essere più chiara perché salì ha frainteso le sue intenzioni notando la determinazione di zeynep la informa che dovrà dirlo il prima possibile a salì poi non convinto le chiede se c'è qualcun altro che la sta corteggiando ma lei risponde negativamente dice a kemal che è stanca di questo interrogatorio e si allontana rimasto solo con tarik che mal dice al fratello che zeynep è sotto la loro responsabilità ma tarik gli chiede di smetterla di controllare le loro vite perché così confonde solo le idee a tutti precisa che prima che lui arrivasse tutto filava liscio e sottolinea che zeynep è sotto la sua responsabilità e gli chiede di non intromettersi e di continuare a stare lontano zeynep in camera sua telefona a emir che sta facendo la doccia e non sente la chiamata in quel momento entra nyan e sentendo il telefono squillare nota il nome di zeynep sullo schermo risponde e riconosce subito la voce di zeynep in tono confidenziale più tardi kemal riceve la chiamata dall'uomo che lo aiuterà a recuperare le pendrive il quale dice che sono davanti casa di galip ma che il rischio di essere scoperti è molto alto kemal domanda se sarebbe diverso se ci fosse anche lui all'interno in mezzo a una folla di persone si capisce così che kemal ha un nuovo piano in mente uscito dalla doccia emir trova sua moglie che gli intima di stare lontano da zeynep lui ironizza dicendo che non sapeva che lavorava per i servizi segreti e le chiede quale sia il suo problema se lui va a letto con zeynep banu o un'altra nyan risponde che è disgustata e ribadisce che deve stare lontano da zeynep altrimenti troverà il modo per fermarlo poco dopo nyan chiama zeynep la quale decide di non rispondere kemal chiama asu e le chiede se è tutto pronto per l'incontro con i soci stranieri lei risponde che sta organizzando tutto deve solo decidere la location successivamente kemal riceve una chiamata da zeynep che finge di lavorare come operaio proprio nei dintorni di casa cosgiolu e gli dice che galip è uscito di casa senza valigetta zeynep incontra salì che è felice di vederla e comincia a fantasticare sul loro futuro matrimonio ma lei lo interrompe dicendo che non lo sposerà perché non lo ama e considera la loro relazione solo un'amicizia di vecchia data salì devastato ma deciso le chiede di non avvicinarsi più emir si dirige a casa di suo padre ma la sicurezza gli nega l'accesso per ordine diretto di galip furioso torna in macchina e poco dopo riceve una chiamata da parte di zeynep ma la ignora lei gli manda un messaggio chiedendo se possono vedersi visto che ha un po di tempo libero in quello stesso momento zeynep riceve una telefonata da nyan la quale le chiede di vedersi perché ha una questione urgente di cui discutere che mal raggiunge galip nell'ufficio di emir in azienda mentre nyan avverte leila che arriverà in ritardo al loro appuntamento a causa di un imprevisto terminano così queste anticipazioni io sono desi e se volete vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video un abbraccio e ci sentiamo nei commenti con i vostri pareri sulla puntata